Gerardi, io te lo dico francamente, senza alcuna finzione, che il tuo fidanzamento con Sheila significa molto per me. Sheila ti farà felice e sono sicuro che anche tu la renderai felice. Tu sei proprio il genero che io avrei sempre voluto. Sono sicuro che mio padre approverebbe questo discorso. Arthur, non mi sembra che dovresti parlare di affari in questo momento. Settore, com'era? Era molto giovane? Sì, aveva 24 anni. È morta in ospedale. Vi era stata portata questo pomeriggio poiché aveva inghiottito una forte dose di disinfettante che ovviamente le ha bruciata tutto l'interno. Mio Dio. Posso... Posso vedere la fotografia, ispettore? Ogni cosa ha suo tempo. Invece io credo che lei farebbe meglio a restare. Perché dovrei restare? Ma perché è successo tutto questo? Allora?